A questo punto dobbiamo votare l'articolo 18, perché gli altri emendamenti sono stati tutti ritirati. Votiamo l'articolo 18. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Bolognesi. Altri che non riescono a votare? Fanucci e Fantinati. Pisano, bene. Altri? Fanucci che ancora non riesce a votare. Sta approvando lei a votare? Bene. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 359, votanti 326, astenuti 33, maggioranza 164, favorevoli 263, contrari 63. La Camera approva. Dobbiamo passare all'articolo 19. Onorevole relatrice, i pareri. Grazie. Contrari, Presidente. Grazie. Onorevole Ferraresi. Siamo al 19.15. Siamo al 19.15. Siamo al 19.15. Grazie. Governo? Contrari. 19.150 Ferraresi. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario. Relatore di maggioranza e Governo. Onorevole Ermini. Prego. La ringrazio, signor Presidente, ma io vorrei chiedere ai presentatori di questo soppressivo di ritirare l'emendamento, perché veramente non se ne capisce la ragione. Abbiamo cercato di diminuire la somma di conversione per agevolare l'utilizzo del decreto penale di condanna, proprio per avere un effetto deflattivo sui procedimenti, per agevolare le fatte...